e adesso ci tengo a presentare Daphne Trovato, campionessa regionale della XAI nel 2013 ha vinto proprio il campionato regionale del 12 maggio 2013 a Palermo nella categoria Pulcini, quindi proprio è piccolissima e quindi il primo posto nella terza specialità collettivo corpo libero, palla e se si verrà sulle note di Adele un applauso per Daphne Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Buonasera a tutti, sono ancora contenta perché questa è un'altra serata prevista nell'acosto pacchinese vedo ancora tanta bella gente, abbiamo anche ospiti di Portopalo quindi amici anche di altri comuni, i genitori, i vostri ragazzi ma soprattutto ammiriamo la bellezza e la qualità di questa tipologia di danza è stata fatta la richiesta all'ufficio spettacolo, abbiamo detto sì perché no, anche perché è diversa una come tipologia, non è la solita danza ma io ho visto tanto l'espressione, veramente questa sera si legge cosa si può fare anche con il corpo, non solo cose negative ma quante belle cose possiamo fare con il nostro corpo perché questa è un'arte che 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 avete messo qua su questo palcoscenico quindi grazie ancora, buona serata, ci sono sparsi in giro i programmi per ulteriori serate belle da passare insieme quindi se volete siete sempre benvenuti, grazie grazie ancora a lei, assessore di una mano, piacere diretta conosciuta, tante grazie ancora procediamo con la nostra serata grazie a tutti 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 grazie a tutti